Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni nei confronti di Luigi Cassandra, politico ritenuto punto di riferimento della fazione dei Casalesi che faceva riferimento a Michele Zagaria. Il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capoavetere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli riguarda l'intero patrimonio riconducibile direttamente o indirettamente a Cassandra, ben 6 appartamenti, 2 terreni con piscine, 8 auto ed una moto, quote di 11 società e conti correnti per un valore totale stimato in oltre 5 milioni di euro. Cassandra era stato arrestato il 25 ottobre 2011 per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni al termine delle indagini sulla realizzazione del complesso turistico e sportivo Night and Day di Trentola Ducenta. Il villaggio, secondo quanto emerso nel corso dell'inchiesta, era stato voluto proprio da Zagaria. Il boss avrebbe investito nel villaggio i soldi dei Casalesi utilizzando il politico che all'epoca era consigliere comunale del paese. Il Night and Day hanno accertato le indagini della finanza grazie anche alle dichiarazioni dei collaboratori. Era utilizzato dal clan come lavatrice per pulire i soldi provenienti dalle attività illecite, come base logistica per lo svolgimento di summit di Camorra e come punto di partenza per i killer incaricati di uccidere i rivali.